Ha rifiutato subito ogni forma di assistenzialismo statale e poi ha avuto il merito, riconosciuto da ogni parte d'Europa, di rimettere in moto il ciclo produttivo dell'ex EvoTep nelle campagne di Santi Cosme e Damiano, che ha incarnato, grazie alla precedente esperienza dell'ex Manuli, il sogno industriale poi fallito dell'intero sud pontino. E' la ManCop, la società cooperativa, formatasi sulle scenerie di quella che era l'ex EvoTep. Vi hanno aderito una cinquantina di ex dipendenti che dopo aver ripreso la produzione di nastri adesivi è andata ben oltre. Dopo l'ok del curatore fallimentare, nominato dal Tribunale di Latina, l'avvocato Vincenzo Manciocchi, ora ha quasi ultimato la bonifica sistemazione e messa in sicurezza del mega stabilimento di Via Portugaleo, grazie ad un investimento di ben 250.000 euro. L'intento è quello di realizzare un piccolo medio polo industriale artigianale e commerciale per l'intero sud pontino e una forza anche di centro intermodale a favore del porto di Gaeta. La ManCop sta fornendo ora agli interessati un servizio chiave in mano per la gestione di magazzini e depositi di materiali. Sta offrendo anche spazi per la nascita di nuove start-up, soprattutto giovanili, garantendo anche diversi servizi, tra cui la sorveglianza 24 ore al giorno per tutto l'anno e servizi di manutenzione specializzata. Noi crediamo in questo progetto e vogliamo creare un qualcosa che mette a disposizione dei giovani, delle piccole e medie imprese, degli strumenti per svilupparsi, per cercare di stare sul mercato.